Cioè, in un pranzo di Natale di Piloni, Zilocchi, Fischietti e te, più Morris, che insomma, vabbè, outsider, c'è cosa si è mangiato. Ma per dirti c'era anche l'ollo bello, per dirti, quindi erano proprio alla creme della creme, facciamo stare, ragazzi. Quindi, ma Morris è un po' out of context, un po'... Ma sai che Morris, Morris, c'è sempre avuto questo fatto che quando facciamo le cene degli Avanti, o Piloni, c'era sempre, eravamo le cene a Piloni più Morris, io non ricordo. Quindi, in qualche modo, lui si sente un po' parte di noi, capito? Poi, comunque sia, lo vedi che è bello, bello grosso pure Morris. Morris a me è piccolo, quindi... Ma dai, tutte le squadre c'è un po' il tre quarti che attacca intorno ai 25 anni dicendo, sì, ma io a 35 giocherò a Piloni, no, a 6 passo giocherò a Piloni e abbiamo scoperto che è Morris. Ma Morris, ragazzi, Morris tra un po' lo vedremo a destra, io ve lo dico. Grazie. Grazie.